che bello sentirsi qua è veramente come sentirsi a casa o no simo certo ragazzi siamo a casa santoni ma vi ricordate che due anni fa senza saperlo eravamo tutti assieme sullo stesso piano lavorando e c'era già era già un segnale quello era già c'era qualcosa nell'aria no si pensa quando ci siamo incontrati in corea che stavi assaggiando questo prodotto di fretta di cori e mi hai mai dato un messaggio liquido fantastico stefano giacca rossa impeccabile giacca rossa le mie giacche rossa come questo poi e da scudieri il caffè da lì è iniziato proprio la vera e propria sensazione no da mario santoni dai che più tardi andiamo andiamo a prendere un caffè domani o anch'esso se io lo berrei un caffè dopo io per questa adrenalina bella precisa sentite ma vi trovate bene in questo luogo in campagna state bene perdiamo l'aereo rimaniamo con la settimana su bene beh io farei un brindisi dai dai ma come pensate ai salute 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 a toscana stupendo ciao 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 ciao